Campo San Piero ha rischiato di morire all'uscita dall'asilo. Tragedia sfiorata a pochi metri dalla scuola materna Umberto I. Ieri pomeriggio una bimba è caduta accidentalmente nel canale Tergolino a pochi metri dalla scuola. A salvarla è stato il papà di una compagna che ha visto la scena e non ha esitato a buttarsi nelle acque del canale, riportando a galla la bimba terrorizzata. Sotto shock la mamma della piccola che per un attimo ha temuto il peggio. Secondo una prima ricostruzione pare che la bambina si sia sporta per guardare i pesci che nuotano nel canale Tergolino e si è anciampata sul muretto molto basso di protezione, cadendo in acqua. Subito si è creata una catena umana che ha aiutato a risalire la piccola e il papà che si era immerso per recuperarla. Fortunatamente in quel tratto il canale non è profondo. La bambina è stata visitata e a parte la paura sta bene.